Signore e signori, Howard Hughes! Il sognatore delle imprese impossibili. Possiamo costruire un aeroplano che voli fino alla stratosfera! Stai perdendo 25.000 dollari al giorno, potresti perdere tutto. Non accadrà. La vera storia di Howard Hughes. Quanto mi costerebbe il controllo della TWA? Vuoi comprare la linea aerea? Perché lasciare che siano gli altri a divertirsi? Howard, sei proprio pazzo. Ho sentito voci infietanti su Mr. Hughes. Diretti da Martin Scorsese, i premi Oscar Leonardo DiCaprio e Cate Blanchett. The Aviator. Sabato, alle 21.15, sulla 7.